Le ragioni del no? È una classe politica che sta morendo, hanno paura degli elettori e siccome nessuno li vota più, stanno cercando dei modi per evitare che gli elettori li caccino dalle istituzioni. Oggi quando il cittadino italiano va a votare cerca un modo per mandarli a casa, quindi devono trovare un modo per non andare a casa. Ci hanno fatto la riforma delle province e ci impediscono di votare le province, la riforma della città metropolitana e ci impediscono di votare le città metropolitane, la riforma elettorale alla Camera e di fatto ci tolgono le preferenze perché hanno messo i capi lista bloccati, la riforma costituzionale e ci tolgono il diritto di votare il Senato della Repubblica. È un ragionamento elementare, hanno paura di scomparire e fanno in modo che i cittadini non possano mandarli a casa con il proprio voto, come abolendo gli elettori, non il Senato, abolendo gli elettori, non le province.